Avrebbe fatto di tutto per esserci e c'è riuscito Silvio Berlusconi a confermare l'appuntamento al Palabecci del Marina di Pescara di fronte ad una folta platea ieri pomeriggio, tra sorrisi, strette di mano e passaggio in rassegna per ognuno dei candidati nelle liste di Forza Italia alle regionali del prossimo 10 febbraio. Un improvviso attacco influenzale in mattinata non gli aveva consentito di chiudere la visita come programmato a Teramo, ma è dal palco del padiglione Daniele Becci che l'ex primo ministro ha dato il meglio di sé. Il suo principale affondo è stato nei confronti del Movimento 5 Stelle, una cui affermazione elettorale in Abruzzo sarebbe, secondo il Cavaliere, una vera e propria sciagura. Chi sono queste persone? Queste persone che rappresentano, lo dico qui, il peggio del Novecento perché sono ancora comunisti e lo affermano con orgoglio. Loro dicono non siamo comunisti da salotto come quelli del Partito Democratico, no, noi siamo comunisti veri, siamo comunisti di strada. Noi vogliamo cambiare il Paese e come lo vogliono fare? Con tutte le peggiori ricette della sinistra comunista e con in più una spinta forte che tutti loro sentano dell'invidia sociale. Siccome non hanno niente, invidiano coloro che con una vita di sacrificio di lavoro, hanno saputo raggiungere il benessere.